Soddisfatti per il premio ricevuto e fiduciosi che possa essere un'opportunità ulteriore per intraprendere un felice percorso professionale. Sono i partecipanti al Master sul Design e Marketing del Gioiello, organizzato dall'Università di Siena a sede di Arezzo, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo e Siena e la consulta dei produttori ora fiaretini e con il contributo di CNA, Confartigianato e Confindustria. Il Master è giunto alla decima edizione. Tutti gli anni abbiamo avuto iscritti, tutti gli anni abbiamo avuto soprattutto risposte al mondo del lavoro, perché i ragazzi, un buon 70% hanno trovato poi lavoro nelle aziende o hanno creato loro delle aziende. Presidente, il Master del Gioiello ha visto protagonisti giovani di nazionalità non italiana, soprattutto. Quindi la professionalità si trova dappertutto? Sicuramente, le qualità devono essere riconosciute dove sono. Oggi appunto siamo qui con piacere a riconoscere nel valore e soprattutto a inaugurare una stagione che speriamo sia fuoriera di opportunità per i ragazzi che si accingono a frequentare questi corsi, ma soprattutto anche poi per le imprese che potranno usufruire e beneficiare di questi profili così alti che oggi come oggi sono ricercatissimi, come sappiamo. Ed eccoli i vincitori della Borsa di Studio. Meghini Jaupi, Borsa di Studio messa a disposizione dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Matilde Stella, Borsa di Studio messa a disposizione da Confindustria Toscana Sud. Roshanak Pairovi, Borsa di Studio messa a disposizione da CNA Arezzo. Iulia Smirnova, Borsa di Studio messa a disposizione da Confartigianato Imprese Arezzo. Niccolò Franceschini, Borsa di Studio messa a disposizione da Freschi Evangelisti. Un in bocca al lupo per il loro futuro professionale.